Ciao a tutti ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Scassocraft No 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 số 3 ih flashback Ramci Madonna di allora ragazzi Negli scorsi episodi un atto di scritta le citazioni Nelle vostre monitora abbiamo scelto quattro citazioni napoletane Inizierò io con napoletano Почему Iniziamo con quella di Francesco Daniele che dice Io sono di Napoli Ti faccio penti essernato a merda Spero di averlo detto giusto Dai no si dice così Ma io boh veramente Giuseppe Carranante dice Chi te muore Questa ormai la sappiamo tutti Poi Delacchi5360 Scrive L'ho detto abbastanza bene Cristian Novelle ci dà Ci dà una citazione addirittura Tenga gab Per sparti i recchi Trova a leggerlo Marci No ma l'ho letto io L'ho letto io puttarella L'ho letto anch'io Tenga gab e sparti i recchi L'ho detto malissimo Cazzo vuol dire Comunque ragazzi Adesso per il prossimo episodio Scrivete altre citazioni alle vostre lingue Ne sceglieremo sempre 4 a caso Da leggere all'inizio dei prossimi video Quindi lasciate anche un bel mi piace E va bene Iscrivetevi al canale Daniel Lion Mettete dislike al suo ultimo video E bella Allora Ragazzi Ci avete detto che Wordedit potevamo usarlo E quindi per fare l'igloo Useremo Wordedit Non so se facciamo un po' schifo Perché è impossibile farla precisa Abbiamo provato a farlo Ma è impossibile Allora Dai dobbiamo mettere uno spazio Un pochino più grande qua Perché non possiamo farla più Eh infatti la sto facendo La sto facendo Quanto la facciamo grande di raggio E cazzo ne so fa là un po' Facciamo un 6 di raggio Facciamo un 6 di raggio Proviamo Proviamo qua Ma cosa cazzo stai facendo Marci All'Hsphere 60 All'Hsphere Cosa sei arabo? Così va bene All'Hsphere Ma è troppo grande Ma è troppo grande No è bellissima così È bellissima Ragazzi abbiamo Ma è bellissima Adesso dobbiamo fare Tipo la nostra Ma è bellissima E io stavo morendo di nuovo E io ti ammazzo Allora Spada Facciamo una cosa Ecco No Perché l'allargata? Vabbè l'entrata No facciamo così Ma no Perché l'allargata come una figa di cicciolini Ma basta levarla Ma che credo veniai Andato Ma stai fiero Cos'è? Questa roba La rimetti come prima Ma scusa Perché la porta La facciamo Perché la porta L'abbiamo fatta qui Quando dobbiamo farla Da sta parte Ma no Ma qua facciamo la finestra Ma non ho capito Perché tu Hai deciso di aprirla Così tanto Lo so Ecco Chiudila No Guarda cosa è rimasto Ma che cazzo fai Ti ho fatto la porta Maddio 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 Ok Dani Dani Dobbiamo andare a prenderla La 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 Quella roma Adesso carbone Dani Piaggia di palle Dani dobbiamo fare le torce torciose Perché mi è sparito il pico Ma c'è doll C'ha 51 pezzi di carbone Non ti bastano Non voglio prenderlo anche io Carbone Però dobbiamo abbellire fuori No ragazzi No ragazzi No ragazzi Dobbiamo fare le farm In di picco il glu Le far Degli gluini Oh che carini Gli gluini Però Dani Dobbiamo fare l'entrata All'igloo Sai quella tipo Un pochino lunga Dove entri Da sta parte No Tipo così Ah si 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 Spostati Così Ah Che carini Si Ok Però qua ci vuole tipo un po' di Così Facciamo così ragazzi Guardate Voi non avete visto niente di quello che sto per fare No C'è Proprio banana fritta Ketchup E patatine La dirt Che numero ha? Ce l'ho io la dirt Piccolo bambino Speciale La dirt è 3 Dai Levate da qua Zio cani Sono caduto anch'io Aspetta una Mi fai fare una cosa cososa un attimino Vai fai fai quello che vuoi Piccolo Io mi giro perché se no piango A vedere tutti questi cheat tutto di una volta No niente Ma non è un gran cheat Era solo per forcire la stradina Ma per quanto si può mettere i bambini che saltano Ma l'hanno detto gli iscritti Dai facciamo nevicare Fai nevicare con qualche magia Dai facciamo nevicare Su Dai un foo Ma già ci ci mettiamo pure giorno Oh ma che bello Ecco No qua sta piovendo Qua piove Mettiti qui nell'angolo ti prego Vieni qua dove sono io Qua piove Qua neve Qua piove E tu sei morto Noo Ce l'hai le torce aiuto Non te ne vedrò mai Così impari a picchiarmi Dammi le torce Dammi le torce Ma non è che si scioglie con la torcia No ma vai il ghiaccio Sì ma qua dobbiamo togliere Qui dobbiamo fare i vetri Eh sì No 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 Ho un'idea Io piccola bambina speciale Aspetta dammi qua Dammi Dammi ogni piccola cosa Ok questa ci sta come idea Allora poi Qua c'è un dandelion Non so Lascio Don't touch my dandelion Se no ti spacco Don't touch my trara Oh my d ding down Dani ma se facciamo tipo una cosa del genere Guarda Cosa fai? Ti costruisci la barra? No 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 Stai fai No Se no poi devi fare il comando Aspetta Ragazzi questa Stella Comanda Colore Sei contento? Oh È tutto bianco adesso Che bello Ragazzi questi non sono cheat Perché noi la neve ce la siamo presi Anche se non la scala Noi ce la siamo presi Quindi adesso buttiamo questi 26 pezzi E via Allora 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 Ok è un cheat Così la facciamo Ma che carina Ma è tutto bianco in questa Mannaggia di casa Voglio fare un secondo piano Tu hai idee Marci Oh wow Questa qui si che è una bella Che bello Beh no È troppo bello No voglio fare il secondo piano Dove No le cesso facciamo la parte sotto Facciamo Beh mettiamo il legno bianco allora Sì il bianco è molto meglio Ecco lo vado a cercare Io Io devo solo Io piccola puttanella Vado a cercare il Il legno bianco Quando torno voglio vedere Ogni piccola cosa diventata più bella Non so che cazzo ho detto Faccio il piano di sotto Faccio 51 pezzi Basta ne avanzano Ah Sai cosa dovrebbero fare Una crafting table Con legno bianco Con il colore delle cose Sì è vero Sarebbe una cosa Fighissimo Io lo diciamo Mandiamo un tweet Vai io lo diciamo Ok però qua Ma allora che cazzo Abbiamo combinato Qua Marci Marci E dopo chiudiamo Sì vero Cioè I bambini Del Congo Vogliono due fornaci Da quello che so Perché Loro hanno bisogno Di due fornaci Per vivere Sì è solo Lo sapevi questa cosa Eh non lo so Ma la sei aumentata ora Per questo È guerra Che guerra sia Ma che guerra sia Rimarrai contento per sempre No Devo fare il piccolo scavatore Mi interessa Mi interessa Viene ad aiutarmi Piuttosto Sto facendo Qua sopra Cazzo Viene a far Sto cercando di rendere Le cose più belle Marci Ci sono delle mucche Nelle vicinanze Che facciamo i frame Per mettere sopra Che cosa sono Cosa stai dicendo Non sto neanche Non so Cosa 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 Quello Sì È quello che ho messo Anch'io No ma Grande così Va basta Secondo me Va basta Sì Eee Ma fallo che Tipo arriva fino a di là Aspetta adesso vengo Io ti faccio vedere Le cose magiche Della vita Ah che tipo Che esce Dall'altra parte Esatto Così c'è un'entrata Che per sotto Che figliata Eeeeee Eeeeee Allora Danni girati Sbabe di bubino Non voglio Testimare di Genova Di Genova Non voglio Testimare Perché Testimare di Genova Cazzo ne so Pensavo volessi picchiarmi Ma va ho detto Tu hai detto Non venire qua A dirmi Sbabidi bubidi Ba io son venuto Che schifo Digià Mamma mia Egli a colazione precoce No fino a qua è troppo Perché qua infatti esce Poi Eh vabbè Che se ne frega Lo rifacciamo Dai Quindi ok Fino qua E poi metti alla terra Ma mettiamo La terra Ma cammina Leva sta roba Aia Aia Oh era la pala Zio Sì sì la palle Era la pala Io vado a craftare Un po' Sì sì vai vai Puoi dormire Non puoi dormire Quindi ok Siccome non abbiamo tempo Facciamo così Allora Ma cosa Allora scendo di qua Ci sono delle mucche Qua nelle vicinanze Qua è pieno di pecore Io voglio mucche Perché ti serve mucca? Per fare i frame Oh là ci sono delle mucche Ma ce l'abbiamo già la pelle La dentro Cioè abbiamo 14 pezzi di pelle Ok allora non mi serve più La pelle Fai tante Fai tante cose Tante cose Eh capito? E cosa cosa? Cosa? Tante ceste fai Sì sì sto facendo tante ceste Quante ne hai Quante ne puoi fare più che altro? Tante Io ho Va bene tante Sì ma le ceste le mettiamo sotto Ok? Solo sotto Brava E Qua Frame ne ho solo 8 però Qua io pensavo di fare il secondo Fottuto piano Sì facciamo il secondo Fottuto piano Che nielo Però danni dobbiamo Ce l'hai le ceste? Serio? Cioè hai legno Cosa stai dicendo Marcin? Hai legno Quante ceste ti servono? Dimmi Ma un bel po' Sai come Un bel po' quante? Eh tante Oh Tante 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 Almeno 16 16? Sì Che cazzo ci devi fare con 16 ceste? Senti io voglio fare la stanza delle ceste Io sono morto No non sono morto Eh ne posso fare 11 to Arrivo da prendere un po' di legno qua su No il legno scuro Secondo me dovevamo usare il legno scuro Eh sì infatti Ci stavo andando io a prenderlo Ok Che cazzo sei Marci? Sono a prendere il legno scuro io Io ti lancio le ceste Tu te ne vai a fare in culo Perché c'è della sabbia? Che merda la texture pack di Natale Oh mio dio Vomito Non ti piace la texture Vomitare l'ano Addirittura l'ano? Sì Oddio che schifo Sì e te l'ho detto che mi fa venire da vomitare Eh mettiamo le cosie sopra il frame Ma ne facciamo tantissime altre Sì ma aspetta aspetta No no Marci Marci Aspetta Qua qua ci vuole Calma E sangue Ma tu non Caldo Cazzo ma sei morto? No sono vivo Guarda Ah ok Allora vieni qua Non perdere tempo Che cazzo mi sta Mi sta Puoi aspettare un momento Che ti faccio vedere la cosa cososa del mondo E va È Capito? Guarda come cosa si fa qua Sì Guarda cosa si fa Guarda Sì Devi aspettare un attimo però Ok Vieni qua Così 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 E così Guarda che bello Va vomitare No neanche guarda Che merda è Oh Che schifo è quella roba È di fianco un cartello È una figata Ma che cosa Che figata È figata Io il frame voglio Io il frame voglio usarlo Eh sì Ok Però non Usiamolo con Passione Ed elegantezza E qua come lo usi il frame Lo metti sopra No No Lo prendi Dammi i frame Dammi i frame Dammi 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 Dove sono? Riprendi Guarda Dammi sti frame Dammi i frame Dammi i frame E li buttiamo Ragazzi Se volete sapere Come andrà a finire Questo episodio Vi chiedo di lasciare un mi piace Ci vediamo ad un prossimo video Da Marce e Dani tutto Ciao a tutti Ciao a tutti